Non ci riconosciamo nei modi e nelle modalità con cui viene protestato oggi e nello che è stato fatto la volta prima. Abbiamo cercato di trovare un punto d'incontro, ma le modalità erano quelle dell'altra volta. A noi non piace intervenire in quel modo, soprattutto non piace derivare le istituzioni. Non ci siamo insieme e preferiamo fare un'altra data con modalità diversa.